Il nostro viaggio tra i comuni della provincia di Chieti con particolare riferimento a quelli della zona centro-meridionale oggi fa tappa in quell'icanosa Sannita così come a Crecchio nei giorni scorsi anche in questo caso il sindaco è a fine mandato Lorenzo Di Sario e anche con lui più che un bilancio dell'ultimo anno possiamo fare a 360 gradi un bilancio più ampio di quello che è stato fatto in questi cinque anni che vanno ormai a chiudersi. Bene, grazie. Un saluto a chi ci sta ascoltando. Diciamo subito che questi cinque anni sono passati in maniera molto veloce e molto rapida e quindi siamo arrivati a fine mandato così quasi all'improvviso ma comunque diciamo che sono anni che non sono passati in vano in quanto come amministratori ci siamo impegnati e credo insomma di aver insieme a tutta la Giunta agli assessori, ai miei consiglieri che ringrazio per tutto il lavoro che hanno prodotto insieme a me quindi crediamo tutti quanti insieme di aver dato abbastanza allo sviluppo di questo paese che appunto è Canosa Sannita per chi non dovesse sapere dove si trova Canosa Sannita dico che Canosa si trova proprio dove le pendici della maiella si incrociano con le sabbie dorate del mare Adriatico Canosa è circondata diciamo che si trova al centro tra Pescara, Chieti, Ortona e Lanciano quindi è una posizione molto favorevole da tutti i punti di vista in quanto veramente con pochi minuti è possibile raggiungere queste zone queste città più grosse, più popolate in più anche da un punto di vista turistico dobbiamo dire che Canosa gode di questa bella posizione in quanto è sita veramente a pochi minuti dal mare Adriatico diciamo circa un quarto d'ora dal mare, dalle spiagge appunto e qualcosa di più di una mezz'oretta per andare a sciare sulle piste della maiella Canosa confina comunque con altri paesi che citiamo Tollo, Crecchio, Giuliano Teatino, Arielli e Orsonia bene, lei prima mi ha fatto una domanda descrivere cosa è successo in questi cinque anni qui a Canosa per rispondere dobbiamo comunque specificare un fatto molto importante che purtroppo noi siamo arrivati ad amministrare questo paese proprio nel periodo più brutto della storia della nazione in quanto la crisi che incombe in Italia ma anche a livello internazionale ovviamente ha riportato ripercussioni diciamo negative anche sulla nostra amministrazione ciò nonostante però dobbiamo dire che noi ci siamo impegnati abbiamo lavorato, abbiamo trovato diciamo anche entrate alternative che diciamo che hanno pareggiato i tagli che purtroppo anche Canosa Sannita ha subito dai trasferimenti dello Stato inutile dire chiunque oramai può capire e sa quanti tagli le amministrazioni comunali e quindi anche Canosa Sannita hanno subito dal 2009 a oggi io ora non voglio parlare di dati e di numeri dico solamente un dato per tutti che qui a Canosa nel 2012 ci hanno tagliato oltre 112.000 euro nel 2013 abbondantemente 50.000 non sappiamo cosa succederà in futuro da questo punto di vista però dobbiamo dire che siamo stati bravi a trovare altre entrate alternative queste entrate sono arrivate per esempio da una politica che questa amministrazione ha portato avanti sull'investimento sulle energie alternative quindi parlo espressamente di fotovoltaico abbiamo attualmente 5 impianti fotovoltaici fotovoltaici da quelli più grandi anche a quelli più piccolini e questa cosa ovviamente ci produce un minimo di reddito che ci ha consentito di andare avanti appunto di sopportare tutti i tagli subiti nonostante questa politica economica che purtroppo ci pesa e ci pesa abbastanza comunque l'amministrazione ha continuato a fare il proprio lavoro noi possiamo dire a testa alta che qui a Canosa non abbiamo fatto un solo taglio questo lo voglio ribadire in quanto in questi cinque anni la mia amministrazione non ha tagliato niente non abbiamo tagliato investimenti per i lavori pubblici non abbiamo tagliato la cultura non abbiamo tagliato nel sociale anzi addirittura siamo stati in grado di mantenere gli stessi servizi lo stesso standard che avevamo al nostro insediamento e questo cari cittadini sappiatelo non è facile anzi addirittura che nonostante questa congiuntura negativa la nostra amministrazione addirittura ha praticato anche una politica di riduzione di alcune tariffe ne dico una per tutte quella dei buoni mensa noi siamo arrivati nel 2009 i buoni mensa costavano 4 euro oggi a distanza di 5 anni cioè nel 2014 lo stesso buono mensa costa 3 euro e 20 parliamo delle scuole elementari perché se poi parliamo dell'asilo il buono costa 1 euro e 90 abbiamo mantenuto gli standards dentro e fuori cioè fuori intendo per i cittadini ma dobbiamo parlare anche dentro dentro proprio le stanze dell'amministrazione ci sono stati tagli dappertutto blocco delle assunzioni aumento del carico burocratico su tutte le amministrazioni quindi anche su Canosa Sannita ma noi ciò nonostante con il personale che abbiamo anzi li ringrazio pure per il lavoro che continuano a fare sempre con molta professionalità siamo riusciti a tenere testa anche a questa incompensa tant'è vero che addirittura riusciamo a dare anche più servizi con meno personale e questo è un dato di fatto che nessuno ci può negare poi per descrivere anche questa amministrazione anche da un punto di vista così economico dobbiamo dire che noi attualmente è chiaro non navighiamo nel loro questo lo dobbiamo dire subito però ciò nonostante riusciamo a mantenere un po' la testa alta e come si dice in gergo navighiamo a vista ecco io voglio citare anche qualche dato di questa amministrazione e noi da quando siamo entrati lo dicevo pure prima non abbiamo aumentato nessuna tariffa se parliamo di IRPEF di TOSAP addirittura l'IMU abbiamo mantenuto quella minima imposta dello Stato voglio segnalare che quindi quest'anno a Canosa non si è pagata la cosiddetta mini-IMU per quanto riguarda mentre la Tarsu che è la tassa sull'immondizia cosiddetta c'è stato un aumento ma i cittadini oramai lo hanno imparato a memoria anche loro quest'aumento è stato dovuto a una nuova imposizione da parte dello Stato che costringe le amministrazioni comunali e questa cosa è stata ribadita anche da tutti gli altri sindaci del circondario quindi i comuni devono raccogliere esattamente quanto spendono per fare il servizio totale ciclo completo dei rifiuti prima c'era una differenza che il comune rimetteva lo abbiamo fatto dal 2009 al 2012 però da adesso in poi non è stato possibile ripeto in quanto il comune deve richiedere al cittadino esattamente la stessa cifra che l'amministrazione spendere per fare il servizio totale della raccolta dei rifiuti quindi solamente per questo motivo siamo stati costretti a rivedere ultimamente l'unica tariffa appunto che è la Tarsu ma posso anticipare che già da un altro anno le cose dovrebbero cambiare anche grazie a nuovi investimenti che vorremmo fare e che stiamo già avviando dopodiché andando avanti sempre sui dati economici dell'amministrazione possiamo dire che noi abbiamo tu sul bilancio 2012 con un avanzo di bilancio di circa 112.000 euro presumiamo quindi anche un avanzo di amministrazione del 2013 di circa 50.000 euro euro più euro meno devo dire anche la percentuale di indebitamento del comune di Canossa Sannita che oggi come oggi si trova ben al di sotto del 6% quindi sono numeri che possiamo dimostrare a tutti che dimostrano appunto l'operato di questa amministrazione poi se vogliamo entrare nel merito su quanto realizzato in questi cinque anni possiamo ecco cominciare a fare un excursus appunto dal 2009 ad oggi ripeto su quanto realizzato da questa squadra bene io qui posso dire che ci siamo impegnati a 360 gradi come diceva lei poc'anzi e abbiamo ottenuto risultati abbastanza incoraggianti su tutti i vari i vari come dire le varie aree amministrative quindi parliamo per esempio di ambiente e noi siamo stati sempre attenti a a questo argomento di fatti ci siamo impegnati e non poco un grosso risultato è che finalmente questa amministrazione è riuscita a recuperare e a dissequestrare la famosa discarica sita in via pescaresi ed è stata un bel lavoro da parte nostra e questa amministrazione poi si è impegnata attivamente mettendosi in evidenza quindi con fatti e non parole per quanto riguarda la storia di ombrina mare in quanto in tutte le sedi istituzionali dove eramo presenti e dove continueremo ad essere presenti abbiamo ribadito la nostra contrarietà totale alla realizzazione dell'abruzzo petrolifero cosiddetto in più in questi anni ci siamo impegnati abbiamo attivato per la prima volta la raccolta degli oli usati e qui dobbiamo specificare oli usati sia quelli di natura vegetale ma anche quelli di natura come si dice l'olio industriale l'olio di natura meccanica abbiamo organizzato delle raccolte dove appunto anche grazie alla collaborazione totale da parte di tutti i cittadini abbiamo appunto raccolto incenti quantitativi di oli usati sia per quanto riguarda ripeto gli oli minerali e sia quelli di natura vegetale in più ogni anno questa amministrazione si è impegnata anche alla raccolta dei contenitori dei fitofarmaci che è un altro ben risultato un altro servizio che noi dedichiamo appunto a tutti i nostri imprenditori agricoli poco tempo fa grazie a un accordo con la forestale abbiamo ricevuto circa 4.000 piantine se ricordo bene che abbiamo donato a tutti i nostri ragazzi delle scuole poi parte di queste piantine sono state ripiantate anche dall'amministrazione comunale in alcuni siti di importanza qui sul nostro territorio anche ancora con l'ambiente l'amministrazione si è sempre impegnata contro la lotta alle discariche abusive qui purtroppo devo dire che è una lotta impari perché è difficile beccare sul fatto purtroppo questi sciagurati che in continuazione combinano questi danni io dico irreparabili al nostro territorio ma noi comunque ci siamo impegnati a ripulire queste discariche le teniamo sotto controllo e anche grazie all'apporto con la nostra protezione civile ogni tanto facciamo dei controlli sul territorio ma a parte la protezione civile a vigilare sono anche i nostri vigili poi sempre per l'ambiente ci siamo impegnati qualche anno fa abbiamo portato qui a Canosa e devo dire che siamo stati i primi la cosiddetta casa dell'acqua un'idea che ha avuto a quanto vedo un buon successo ma è un'idea che ha dei numeri veramente molto incoraggianti se lei mi consente io qualche numero lo voglio citare perché secondo me è bene che i cittadini sappiano cosa significa avere una casa dell'acqua sul proprio territorio bene quella casa a oggi da quando è stata posizionata ha erogato oltre 450.000 litri d'acqua ciò significa che abbiamo fatto girare 300.000 bottiglie di plastica in meno sul nostro territorio 300.000 bottiglie in meno che sono andate in discarica quindi abbiamo risparmiato le dico pure la cifra circa 2500 euro da questo punto di vista che sono rimasti appunto nelle casse del comune e in più dobbiamo dire che anche grazie a questo servizio dove i cittadini vanno a prendere l'acqua a 5 centesimi abbiamo prodotto a conti fatti un risparmio per tutta la cittadinanza di oltre 50.000 euro poi il dato veramente eclatante e concluderei sull'ambiente il fotovoltaico prima ho citato i 5 impianti fotovoltaici e questi impianti fotovoltaici a oggi hanno prodotto oltre 8 milioni di kilowatt al di là del 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 ricavo economico che non sto qui a dire ma la cosa anche veramente importante ciò significa che il comune di Canosa Sannita da questo punto di vista ha immesso nell'aria oltre 3 milioni e 500.000 chili in meno di anidrite carbonica questi sono i risultati di questa amministrazione noi lo avevamo promesso ci eravamo impegnati a Bruxelles personalmente nel 2010 quando il comune di Canosa ha firmato il patto 50 il patto 20 20 20 proprio dentro il Parlamento europeo quindi sono numeri che veramente ci lusingano ma io non mi fermo qui sull'ambiente perché noi in futuro abbiamo intenzione di continuare su questo su questo piano tant'è vero che le anticipo che noi già da mesi abbiamo installato una stazione anemometrica dove stiamo controllando il flusso dei venti e questo per quale motivo? Per un motivo molto semplice perché in futuro vogliamo investire sull'eolico a parte il fotovoltaico ma già stiamo guardando al futuro che è l'eolico in più concludo con l'ambiente dicendo un ultimo dato che credo che sia importante in quanto ecco la percentuale di differenziata l'abbiamo trovata intorno al 59 attualmente ci troviamo gli ultimi dati sono appena arrivati nel 2013 intorno al 61 per cento e devo dire che nel 2011 Canosa è stata anche premiata come comune riciclone dopodiché passiamo in un altro in un altro comparto parliamo di cultura anche qui ci siamo impegnati è chiaro che anche da questo punto di vista abbiamo dovuto fare i conti con con i soldi perché senza soldi purtroppo non si fa niente però anche qui possiamo dire che noi non abbiamo tagliato una sola cosa ci siamo sempre impegnati e questo anche grazie al validissimo apporto che ci che ci è arrivato da tutte le forze associative che che lavorano sul territorio quindi io penso alla Proloco penso alla parrocchia e penso all'associazione poesia nella vita penso all'associazione nella lotta ai vari cori folcloristici che esistono qui a Canosa grazie a loro e grazie anche al nostro impegno diciamo che la cultura a Canosa in questi cinque anni si è fatta sentire ora ovviamente non sto a fare l'elenco di tutte le cose organizzate perché ci metteremmo secoli a noi piace fare le feste ovviamente non facciamo solamente le feste ma facciamo anche tanti fatti è bello fare le feste poi quando abbiamo tutte le condizioni per farle facciamo anche le feste ecco volevo citare qualche iniziativa quelle tra le più importanti che ripeto sono state appunto organizzate grazie alla collaborazione con tutte le associazioni prima citate ecco io voglio dire per esempio le feste patronali grazie alla Proloco ma anche i carri famosi di Sant'Antonio grazie alla parrocchia noi qui a Canosa ogni anno facciamo una gara di poesia internazionale una gara di pittura grazie appunto all'associazione poesia nella vita e poi facciamo una bellissima giornata dedicata allo sport c'è una gara polistica dove oramai arrivano da tutte le parti e vengono arrivano circa 700 atleti e questo grazie all'associazione nella lotta grazie alla polisportiva poi come comune è chiaro che facciamo qualcosa anche noi indubbiamente potrei citare per esempio Abruzzo on stage una manifestazione che abbiamo ripetuto due volte ripetuta due volte appunto qui a Canosa dove sono arrivati star internazionali nominativi io le ricordo ancora uno di questi è Cledi e l'altro è Oddi quindi un paesino che riesce ad ospitare questi ballerini di fama internazionale che nessuno può negare ma è chiaro che l'impegno sulla cultura non finisce qua noi ci siamo impegnati anche su altri punti collaborando anche con Città del Vino con la Cantina Sociale che diciamo è la parte attiva anche di questo paese anche grazie alle cantine private noi anche con le scuole abbiamo collaborato abbiamo cercato di dare il massimo ai nostri ragazzi sia se parliamo della scuola materna sia se parliamo delle scuole elementari non a caso qualche anno fa abbiamo abbiamo messo su una nuova una nuova aula mediatica una sala mediatica appunto questo anche grazie che ringrazio appunto grazie alla collaborazione con la Diali Fludis qui di Canosa Sannita poi con la scuola ci siamo inventati di tutto abbiamo organizzato anche corsi integrativi corso di inglese corso di di canto di danza di manipolazione attualmente per esempio è cominciato il nuovo corso di teatro tutti i servizi che questa amministrazione eroga oramai da anni in questo caso alla scuola io andrei avanti a questo punto andiamo a vedere un altro comparto parliamo di di sociale anche qui diciamo subito che abbiamo mantenuto il cosiddetto status quo e non è stato facile noi non abbiamo tagliato una sola ora e ripeto non abbiamo aumentato non abbiamo tagliato una sola ora per esempio di assistenza domiciliare poi con il sociale abbiamo sempre continuato ad investire sul centro anziani io li chiamo centro meno giovani sono simpaticissimi lavorano tantissimo per noi noi li rispettiamo e personalmente io cercherò sempre di dare il meglio a questi signori questi signori meritano questo rispetto in quanto se noi oggi stiamo qui a queste condizioni dobbiamo ringraziare il loro lavoro e i loro sacrifici negli anni passati quindi massimo impegno da parte nostra per quanto riguarda gli anziani a loro abbiamo organizzato gite abbiamo organizzato le cure termali ci siamo inventati tempo fa anche il fatto a parte le cure termali andate in ritorno in giornata ma qualche anno fa ci siamo inventati anche proprio un pacchetto di circa 12 giorni da fare in località a prezzi ovviamente convenzionati dove una quota veniva messa appunto dal partecipante e una quota veniva erogata dal comune in più poi nel sociale dobbiamo dire che purtroppo ecco l'aria che tira fuori non è delle migliori attualmente ci sono alcune famiglie purtroppo qui a Canosa meno fortunate noi andiamo incontro a queste famiglie con tutti i vari sistemi che possiamo mettere in atto per alleviare appunto a loro queste sofferenze ultimamente per esempio abbiamo ci siamo inventati abbiamo consegnato buoni per la mensa addirittura gratuiti per queste persone in più qui a Canosa grazie a un accordo con un'associazione sportiva riusciamo alla quale noi fordiamo la palestra questa associazione eroga servizi per esempio di ginnastica gratuita per i bambini e per i nostri anziani quindi ci impegniamo anche da questo punto di vista anche se non è facile però noi stringiamo i denti e continueremo sicuramente ad andare avanti è un paese che quindi come può notare insomma si dà da fare è un paese che non è fermo è un paese che vuole continuare a muoversi e lo faremo sicuramente in futuro prima quando ora non per fare un piccolo passo indietro quando ho parlato di cultura spettacoli turismo probabilmente ho dimenticato di dire che oggi a Canosa sono arrivati anche per esempio due nuovi ristoranti e devo dire che questi due ristoranti tra l'altro sono bravissimi stanno attraendo persone qui a Canosa che sono sono tante che vengono a trovarci e molte per la prima volta quindi un paese che prima magari era dimenticato era sconosciuto bene adesso arrivano un po' da tutte le parti questo anche grazie al lavoro all'ottimo lavoro di questi due ristoranti quindi grazie anche all'imprenditoria dei privati e ora andiamo a parlare della madre di tutte le battaglie come si suol dire quindi dei lavori pubblici è un piano abbastanza variegato dobbiamo dire che in questi cinque anni abbiamo cercato di realizzare al massimo e i nostri numeri sono i seguenti noi al nostro insediamento nel 2009 devo dire questo lo devo riconoscere abbiamo ultimato qualche qualche opera che era già in cantiere da parte della precedente amministrazione tipo gli asfalti a Orni a Moggio abbiamo prolungato i gabbioni di contenimento lì a Fondi Bianca praticamente erano cose già in corso anche se erano abbastanza bloccate noi le abbiamo sbloccate e abbiamo ultimato questi lavori tipo anche la tribuna al campo sportivo dopodiché ci siamo messi al lavoro da parte nostra una prima cosa fatta è stata la ristrutturazione della mensa che purtroppo al nostro arrivo era inguardabile era quasi inagibile l'abbiamo completamente ristrutturata e oggi posso dire attestata che è un fiore all'occhiello della nostra amministrazione poi abbiamo continuato sempre nel 2009 con la ristrutturazione della sede comunale io devo dire che al nostro insediamento non ho potuto chiamare il signor prefetto in quanto nella nostra sala consigliare cadevano i calcinacci per infiltrazioni di acqua e altri problemi abbiamo rinnovato tutti gli interni del comune ed è stato un altro lavoro che è qui tutti possono possono vedere possono toccare con mano e dopodiché abbiamo continuato con altre iniziative negli anni successivi anche qui faccio un escursus molto molto veloce non possiamo ricordare tutte le opere pubbliche fatte parliamo di quelle più importanti bene nel 2010 abbiamo iniziato il consolidamento dietro la chiesa che è un movimento frenoso che abbiamo bloccato che attualmente è un'opera conclusa poi sempre qui nel centro storico abbiamo iniziato il recupero totale e dico totale del centro storico in quanto anche qui avevamo grossi problemi erano almeno 25 anni che non si spendeva più un solo euro sul centro storico di Canosa e quindi abbiamo rifatto questo look i lavori tra l'altro stanno ancora andando avanti e andranno avanti in futuro da questo punto di vista devo citare il rifacimento di via panoramica una via che attualmente tutti quanti ci invidiano abbiamo ristrutturato via Roma abbiamo rifatto un muraglione anche lì a via Roma dove fino a due anni fa c'erano delle erbacce e parlo in pieno centro storico alte due metri oggi abbiamo rifatto marcia a piedi e abbiamo messe piante ornamentali in via Roma abbiamo rifatto anche tutto il sistema di illuminazione attualmente abbiamo un impianto veramente innovativo a led che non consuma quasi niente poi ci siamo impegnati anche un po' così alla tecnologia quindi spazio alla tecnologia siamo stati i primi possiamo dire a mettere un'area di wifi gratuito qui in piazza altro altro lavoro che magari ho citato prima appunto la nuova sala informatica che abbiamo realizzato a scuola poi andiamo avanti con le opere pubbliche ci siamo impegnati anche non solamente nel centro storico ma siamo andati a lavorare anche fuori cioè abbiamo la nostra ottica è stato avvicinare la periferia al centro le periferie che dobbiamo dire erano abbastanza isolate non a caso noi nel 2011 abbiamo realizzato una fogna lì a a fonte capanna ai limiti con il comune di tollo una fogna che era promessa da quasi vent'anni noi alla fine l'abbiamo realizzata nel 2011 abbiamo messo mano per la prima volta al cimitero con la costruzione di di loculi e dopo col passare del tempo comunque ci siamo impegnati anche a ristrutturare altri palazzi comunali come per esempio l'auditorium che abbiamo rinnovato totalmente abbiamo rinnovato anche il vecchio asilo ma ne parleremo ne parleremo dopo nel 2012 per esempio abbiamo rinnovato anche il parco dei mezzi dell'amministrazione comunale che oramai erano obsoleti avevano vent'anni venticinque anni quindi abbiamo ricomprato una nuova pala meccanica che è utile per i lavori che questa amministrazione è avanti abbiamo ricomprato un nuovo mezzo agricolo che è sempre utile appunto per i soliti lavori e in più nel 2012 appunto per il discorso che dicevo poc'anzi abbiamo voluto avvicinare la periferia in questo caso un'area importante l'area dove si trova una fabbrica importante qui a Canosa ripeto la di Alifluidis abbiamo collegato questa fabbrica al centro con dei marciapiedi i cosiddetti marciapiedi di via valli poi per esempio abbiamo pensato anche al turismo che prima accennavo cioè lei deve sapere che qui a Canosa non ci stavano neanche i cartelli stradali qualcuno li aveva dimenticati da anni quando si usciva per esempio dall'autostrada da Pescara Sud o Francavilla oppure quando si usciva da Ortona erano indicati tutti i paesi dico tutti nessuno escluso tranne Canosa bene ci siamo impegnati di persona c'è stato l'assessore Massimiliano che ha fatto un ottimo lavoro Massimiliano Matteucci da questo punto di vista che ha rinnovato tutta la cartellonistica stradale e anche la toponomastica cittadina oggi i cartelli di Canosa Sannita per indicare come arrivare a Canosa Sannita si trovano dappertutto e questo è anche un nostro successo appunto di questa amministrazione in più nel 2012 abbiamo dovuto rinnovare integralmente il server del comune sono soldi magari sono lavori e opere che il cittadino non vede però sono soldi che dobbiamo spendere in quanto il server che c'era prima non poteva neanche essere chiamato con questo nome e tutti capiscono l'importanza di un server qui a Canosa arriviamo ai giorni nostri quindi arriviamo nel 2013 dove abbiamo fatto anche grossi e importanti investimenti mi riferisco alla ristrutturazione del palazzo scolastico dove abbiamo rifatto i bagni le finestre abbiamo ritindeggiato tutta la scuola parlo dell'interno abbiamo aumentato la sicurezza ma devo dire che i lavori devono ancora continuare questo è un lavoro per oltre 100 mila euro poi nel 2013 abbiamo aperto per la prima volta qui a Canosa un asilo nido prima le mamme erano costrette a portare i propri bambini nei paesi limitrofi oggi l'asilo nido grazie al nostro lavoro ce l'abbiamo qui a Canosa è un asilo nido tutto nuovo al passo con i tempi innovativo purtroppo quest'opera arriva in un momento in cui inutile dirlo c'è crisi di lavoro e questa cosa si ripercuote anche su questa opera però vedo che stanno tanto che grazie al lavoro delle ragazze che gestiscono e che portano avanti appunto questo asilo nido la cosa comincia a crescere e cominciano ad arrivare anche iscrizioni da parte di persone che arrivano dai paesi limitrofi poi nel 2013 abbiamo dato anche un importante contributo alla chiesa alla parrocchia per ristrutturare le scale in più nel 2013 abbiamo portato avanti la ristrutturazione totale di piazza della piazza principale di piazza indipendente il lavoro comunque va ancora avanti perché non è ancora ultimato nel 2013 abbiamo messo mano ancora al cimitero andando a ristrutturare l'obitorio dove tra l'altro non c'era neanche la corrente ed era un po' tutto da rivedere abbiamo ristrutturato dentro e fuori abbiamo guarito tutte le infiltrazioni che provenivano dal dal tetto in più nel 2013 abbiamo anche qui grazie alla collaborazione con la di Alifrudis abbiamo regalato tutti i computer che devono essere usati per il registro telematico che si trova attualmente presso il nostro plesso scolastico ci sarebbero pure altre opere ora qualcosa mi sfugge ma diciamo che in linea di massima questo è quanto abbiamo realizzato nel 2013 sicuramente avrò dimenticato qualche cosa io me ne scuso ma comunque siamo sempre qui pronti a dare notizie a chiunque ci vorrà fare appunto domanda in darsenso devo concludere probabilmente cosa dire questi cinque anni sono passati così in maniera devo dire molto veloce però sono stati utili a farci fare esperienza attualmente devo dire che siamo tutti un pochino più bravi inutile negarlo come dire abbiamo finito il rodaggio bene noi a questo punto visto che tra poco ci saranno le elezioni questa amministrazione dopo aver finito questa fase di rodaggio durata cinque anni questa amministrazione adesso vuole correre nei prossimi cinque anni vogliamo correre ancora di più di quanto abbiamo fatto attualmente perché abbiamo ancora nuove idee abbiamo ancora tanta energia che vogliamo riversare sullo sviluppo del nostro paese di tutto il nostro territorio e quindi grazie a questa buona fase di buona volontà una fase così come dire anche energetica che noi chiederemo quando sarà a tempo debito chiederemo ai nostri cittadini di darci ancora un'occasione di rimanere qui al palazzo comunale per lavorare tutti quanti insieme e ripeto e sottolineo tutti quanti insieme nei prossimi cinque anni noi la nostra politica oramai io spero che sia nota a tutta la cittadinanza noi abbiamo amministrato in questi cinque anni in maniera onesta prima di tutto in maniera leale e soprattutto in maniera trasparente questo lo voglio dire perché mi consta proprio personalmente io lo posso dire serenamente a testa alta e mi consenta anche di usare un termine sono orgoglioso orgogliosamente posso dire di essere stato in questi cinque anni veramente il sindaco di tutti in quanto io personalmente ma anche i miei collaboratori sia gli assessori sia i consiglieri questa è stata l'amministrazione che ha dialogato serenamente in senso costruttivo con tutta la cittadinanza questa è l'amministrazione che ha messo da parte le beghe di di bottega è un'amministrazione che non ha guardato ai colori alle bandiere ma è un'amministrazione che ha guardato alle idee un'amministrazione che ha saputo dialogare ripeto con tutti quanti nessuno escluso per il bene di tutta la nostra comunità questa è una cosa che voglio dire sono sicuro che se resteremo ancora per i prossimi cinque anni la nostra linea di marcia sarà sempre così noi siamo per Canosa non a caso la nostra lista si chiama siamo Canosa un saluto a tutti quanti voi grazie a tutti